Gesù e Maria State per assistere amici carissimi a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione se possibile ovviamente al termine della visione mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo queste piccole operazioni a voi non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale fatelo ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime quanto state per ascoltare io vi benedica e la Santa Vergine vi protegga Laudentur Iesus et Maria amici carissimi do il bentornato o il benvenuto a chi segue questo ciclo di catechesi a mio avviso molto importante sul catechismo romano del concilio di Trento questa è la 32esima puntata ho già spiegato tante volte che ho deciso di intraprendere questo ciclo di catechesi dopo aver trattato sia il catechismo della chiesa cattolica nuovo nel ciclo di catechesi la sana dottrina cattolica di 2-3 anni fa poi la serie di catechesi sul catechismo di San Pio X e poi queste sul concilio di Trento questo con lo scopo di illustrare e anche mostrare punto primo il reciproco arricchimento di questi testi ognuno con le caratteristiche peculiari proprie e punto secondo la inevitabile continuità dottrinale che non può non starci avremo già notato l'ampia articolazione del catechismo romano adesso questa forte accentuazione della sezione dedicata ai sacramenti perché risente ovviamente del contesto storico sappiamo bene che la riforma protestante i sacramenti praticamente ha passato tabula rasa e li ha ridotti a due di cui peraltro uno fondamentalmente per forza di cose anche per la distruzione del sacerdozio è ridotto fondamentalmente a un simbolo battesimo-carestia con l'ocarestia ridotta a una commemorazione dell'ultima cena e una presenza di Gesù simbolica quindi completamente distrutta la dottrina cattolica sui sacramenti e quindi è chiaro che come abbiamo già visto per il battesimo e come spero finiremo oggi di vedere con la cresima ci sono delle accentuazioni forti forti e al tempo stesso importanti perché è bene certamente che lo siano ecco quindi bene allora passiamo subito al tema di oggi che è la prosecuzione del sacramento della cresima perché dobbiamo vedere ancora il ministro della cresima il padrino della cresima poi la somma utilità della confermazione il quando ricevere la cresima e gli effetti della cresima infine un piccolo paragrafetto datato certamente ma dedicato alle cerimonie della cresima comunque interessante leggerlo anche oggi allora cominciamo subito i pastori devono ancora indicare le persone alle quali l'amministrazione di questo sacramento è principalmente affidata come dice il profeta molti corrono senza che nessuno li abbia mandati è quindi necessario determinare quali siano i veri e legittimi ministri affinché il popolo fedele possa partecipare al sacramento della cresima e conseguirne la grazia la scrittura mostra che il solo vescovo riveste l'ordinaria potestà di amministrarlo leggiamo negli atti delle apostoli che avendo la Samaria accolto la parola del Signore furono colà mandati Pietro e Giovanni che pregarono per i nuovi fedeli perché potessero ricevere lo Spirito Santo il quale non era ancora disceso in alcuno di loro erano stati infatti semplicemente battezzati traspare da ciò che colui che aveva battezzato essendo un semplice diacono non aveva alcun potere di cresimare e che questo potere era riservato ai ministri più alti agli apostoli lo stesso può osservarsi dovunque la scrittura fa menzione di questo sacramento non mancano poi a conferma testimonianze nettissime dei santi padri e pontefici Urbano, Eusebio, Damaso Innocenzo e Leone contenute nei loro decreti Sant'Agostino dal canto suo deplora vivamente l'irregolare consuetudine degli egiziani e degli alessandrini tra i quali i sacerdoni semplici osavano amministrare il sacramento della cresima Una similitudine soccorrerà in buon punto i pastori per dimostrare quanto giustamente tale potestà sia stata riservata ai vescovi Nell'innalzare un edificio i muratori, i ministri inferiori preparano e dispongono il cemento, la calce, le travi e ogni altro materiale ma la direzione definitiva dell'opera è riservata all'architetto ebbene anche questo sacramento con il quale l'edificio spirituale è portato a perfezione deve essere amministrato esclusivamente dal sommo sacerdote Ora, questa è la dottrina tradizionale della Chiesa evidentemente siccome siamo nel 2024 oggi, questa facoltà, vedete, il catechismo dice che attenzione il vescovo ha l'ordinaria potestà di amministrarlo quindi vuol dire che un sacerdote non può amministrare questo sacramento a meno che non abbia una potestà delegata dal vescovo perché questa potestà il vescovo può delegarla e di fatto oggi credo in tutte le diocesi, qui ce ne sono non so quanti delegati del vescovo che possono amministrare la Chiesa ma forse una decina il vescovo può scegliere alcuni sacerdoti generalmente tra i suoi stretti collaboratori i vicari forani, i vicari giudiziari, il vicari generale e altri stretti collaboratori a cui concede, delega appunto la potestà di amministrare questo sacramento questo perché è è un sacramento in cui c'è la fusione dello spirito santo è il sacramento che perfeziona l'edificio spirituale d'accordo? perché fa diventare adulti nella fede e quindi è richiesta la presenza del vescovo ordinariamente quindi una presenza che come già spiegato può essere delegata ma deve sempre partire da lui un sacerdote non può di testa propria amministrare il sacramento della Chiesa ma farebbe una cosa gravissima anche se questo però è un problema canonico personalmente credo ma credo che ci siano ottimi motivi per ritenerlo che in questo caso il sacramento sarebbe valido ma illecito perché la potestà ordinare del vescovo per questo sacramento non è ad validitatem ma è appunto ad liceitatem credo però su questi argomenti tenete presente che io non sono un canonista quindi vado a non ha senso vado a a logica però non ci mettete la mano sul fuoco ecco perché potrebbe anche essere che qualche canonista mi sente in questa in questa catechese mi dice guarda non è così perché il sacramento sarebbe del tutto invalido la ritengo una cosa oltremodo improbabile ecco però non mi avventuro ecco perché l'ho fatto al suo tempo l'esame di diritto canonico però capite no poi succede come tutte le cose quando uno come dire cammina verso la specializzazione che ha poi le cose un pochino generiche col passare del tempo insomma l'esame di diritto canonico ho fatto nel 98 credo insomma sono passati quasi 30 anni quindi non ricordo tutti quanti questi dettagli no ok dovrei andarla a riprendere andarmela a studiare certamente saprei dove dove farlo insomma ecco ma non ho pensato di farlo prima dell'inizio di questa catechesi perché a parte il tempo insomma non ci ho provato a pensare il padrino della cresima come nel battesimo anche qui è necessario il padrino che affronta un combattimento alla spada ha bisogno di uno che l'assista con la propria perizia e il proprio consiglio indicando i colpi le parate che lo conducano ad abbattere l'avversario rimanendo in colme pensate un po' che sono i padrini di Cresi a maggior ragione i fedeli che corazzati e muniti dalla confermazione di affilatissime armi si presentano sull'arena spirituale che ha per posta la salvezza eterna hanno bisogno di una guida e di un consigliere opportunamente dunque anche nell'amministrazione di questo sacramento saranno scelti dei padrini con i quali si contrae immediatamente con l'affinità spirituale che impedisce legittimi vincoli matrimoniali come diciamo parlando del padrino del battesimo accade spesso che i fedeli siano troppo precipitosi o troppo tardi o negligenti nell'accostarsi a questo sacramento ma nel caso si intende di parlare di coloro i quali giunsero a tal segno di impietà da disprezzarlo i pastori dovranno perciò conoscere qualità e a quali disposizioni religiose e quali disposizioni religiose debbano avere i cresimandi prima di andare avanti una parola appunto sui padrini pensate un po' la menza diceva uno deve scendere in guerra posta in gioco la salvezza delle anime i nemici dell'anima sono tre la carne il mondo e il demone il padrino dovrebbe essere quello che dà i consigli dice tu c'hai le armi a come dare la stoccata diciamo come combattere e vincere contro questi nemici ora i parroci sanno bene una delle tante croci da parroco che i criteri con cui generalmente vengono scelti padrini e madrine sono ben altri e tocca non rare volte combattere non poco per l'ovvio quindi per far comprendere alle persone che almeno i casi grossolani di incompatibilità con l'ufficio di padrino andrebbero osservati specialmente in questi tempi capite di convivenze corsi riconvivenze posti corsi eccetera eccetera no capite il senso allora come già detto per il padrino di battesimo io ribadisco la scelta del padrino della cresima è una cosa molto delicata perché scegliere un padrino indegno non cominciamo io stai sfidato che i fedeli si agitano sempre ah ma il mio padrino ho scoperto dopo che il padrino conviveva ma allora il battesimo è valido cioè sta parola valida amici qua dimentichiamola d'accordo dimentichiamo perché l'invalidità non so che la mette è una cosa grave ora il problema è che scegliere un padrino indegno è peccato così come è un peccato del padrino nonostante che sia scelto investito accettare perché il padrino non è obbligato io ho raccontato tante volte non so se anche durante queste catechesi non vorrei ripetere perché dopo le persone giustamente si annoiano e si stancano credo forse due tre volte nella vita ricordo che quando ancora c'erano quindi le commedie dei famosi certificati di donità io ogni tanto quando mi venia a chiedere il certificato di donità uno che non avevo ma mai visto non sono in chiesa ma manco in giro dico ma scusa un attimo no dove hai in chiesa dove hai in parrocchia dove hai dove hai che frequenti ma io non frequento niente che frequenti sono venuto a chiedere questa cosa perché mio nipote mi ha chiesto dove hai il padrino allora io cerco di dire tu sei sicuro che carta devo fare tu adesso farai una dichiarazione giurata però stai attento che e gli spiegavo dico accettando questo ufficio tu ti impegna fa questo 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 e questo generalmente dicevano sì sì c'è problema che devo dire firmo è finito rissimi casi ma ci sono stati e hanno tutta la mia stima di persone che hanno detto ah padre se lei mi dice così se questo vuoi fare il padrino io faccio una bella telefonata gli dico grazie per la fiducia grazie per la stima ma io non posso accettare questo incarico perché non posso fare queste cose non posso promettere di fare queste cose anzi certamente non le farò quindi coerenza vuole che ti ringrazio per la stima ma scegli qualcun altro avete visto quando Gesù nel Vangelo dice vede la fede del centurione e ne resta ammirato bello io sono rimasto ammirato questo non è un problema di fede ma dalla come dire dalla sincerità del cuore dall'onestà di queste persone che almeno evitano di incorrere in una cosa che non si deve fare Deus non irridetur scrive San Paolo Dio non si irride se tu hai fatto delle scelte di vita lontane dalla fede divina e cattolica il Signore rispetta il tuo libero arbitrio anche se chiaramente ti chiama a conversione dolcemente e delicatamente tu sei libero o no di convertirti però tu non puoi in questa situazione andarti ad assumere un ufficio ecclesiale che comporta quello che abbiamo sentito non puoi perché sarebbe un prendersi gioco di Dio un irriderlo e questo non si deve fare ok proseguiamo la lettura di questa sommo utilità del sacramento della confermazione anzitutto si insiste nel dire che questo sacramento non è di una tale necessità che chi non l'ha ricevuto non possa salvarsi quindi non è indispensabile la salvezza ma si ricordi pure che per quanto non sia necessario da nessuno però deve essere trascurato bisogna invece badare con ogni cura di non cadere in alcuna negligenza in cose così ricolme di santità e che portano una così larga concessione di doni divini tutti devono desiderare con fervore che Dio offre generosamente per la loro santificazione ora San Luca descrivendo la mirabile fusione dello Spirito Santo dice all'improvviso venne dal cielo un fragore come si fosse levato un vento guagliardo e riempì tutta la casa dove abitavano e poco dopo furono tutti ritieni di Spirito Santo poiché quella casa raffigurava la Santa Chiesa dalle parole di San Luca è lecito arguire che il sacramento della confermazione di quel giorno di cui quel giorno signora inizio appartiene a tutti i fedeli indistintamente il che risulta del resto senza difficoltà dalla natura stessa del sacramento chiunque abbia bisogno di spirituale sviluppo chiunque debba ascendere alla perfetta formazione cristiana deve essere confermato con il sacro crisma ora tutti sono in questa condizione la natura esige che ogni nato cresca e si sviluppi e giunga all'età perfetta per quanto non sempre tocchi la meta allo stesso modo la comune madre di tutti la Chiesa Cattolica ardentemente desidera che nei rigenerati mediante il battesimo si perfezioni la figura del cristiano poiché questo fino è raggiunto con il sacramento denunzione mistica è evidente che tutti i fedeli si devono accostare ora vediamo quando si deve ricevere la crisi il sacramento della confermazione può essere amministrato da tutti i fedeli battezzati ma non conviene amministrare ai bambini non ancora pervenuti all'uso di ragione pur non essendo necessario attendere il dodicesimo anno di età è bene ad ogni modo differire il sacramento perlomeno fino al settimo la Cresima non fu istituita come necessaria alla salvezza fu data perché ben rafforzati dalla sua virtù ci trovassimo pronti a combattere per la fede in Cristo ora nessuno riterrà che i bambini ancora privi dell'uso di ragione siano atti a simile genere di rotta se vogliono conseguire la grazia per i villaggi di questo sacramento non solo devono essere ricchi di fede e di pietà ma devono anche pentirsi dei peccati gravi commessi sarà bene anzi di confessire in antecedenza e siano dei pastori esortati a digiunare e a compiere altre opere di pietà seguendo la notevole la lodevole consuetudine della chiesa antica secondo la quale si doveva andare di giugno alla Cresima non sarà arduo persuadere i cioi fedeli prospettando i doni e gli effetti straordinari di questo sacramento capito? digiuno prima di ricevere la Cresima era la tradizione ci informa qui la consuetudine della chiesa antica ora vediamo finalmente quali sono gli effetti di questo sacramento i pastori insegneranno che la Cresima a somiglianza degli altri sacramenti conferisce a chi la diceva qualora questi non le ponga ostacoli attenzione una nuova grazia infatti tutti i sacramenti come abbiamo mostrato sono mistici e sacri segni che attenzione significano e producono la grazia queste due parole significano e producono sono due parole chiavi per i sacramenti nella dottrina cattolica cioè significano cioè fanno il segno quindi basta che tu li guardi e vedi i segni sensibili attraverso cui sono amministrati e capisci di cosa si tratta solo che non è semplicemente un discorso di piano simbolico cioè quest'azione simboleggia x no quest'azione significa questo e questo che viene significato viene realmente prodotto in te questo è capite è il quid proprio del sacramento ma oltre a questa proprietà che comune a tutti gli altri sacramenti la cresima ha questo di proprio perfeziona anzitutto la grazia battesimale coloro che sono divenuti cristiani nel battesimo sono simili a bambini appena nati teneri delicati con il sacramento del crisma divengono più robusti contro ogni possibile assalto della carne del mondo del demonio come già detto prima che vengono menzionati sono i tre nemici dell'animo il loro animo ne era assodato nella fede reso pronto a confessare senza reticenze il nome di ciò il nome di nostro signore Gesù Cristo da ciò appunto l'appellativo di confermazione dato al sacramento non è vero come pensò taluno non meno ignorante che empio che il termine di confermazione sia stato ricavato dalla circostanza che una volta coloro che erano stati battezzati da fanciulli pervenuti all'età adulta erano condotti dalla presenza del vescovo perché riconfermassero la fede cristiana accettata nel battesimo così la confermazione non sarebbe affatto diversa dalla semplice catechesi tale constitutile non può in alcun modo dimostrarsi invece questo sacramento ricava il suo nome dal fatto che per sua virtù Dio rafforza in noi inizia l'operazione del battesimo e ci innalza la perfetta stabilità della professione cristiana non solo confermandola ma sviluppandola lo attesta così San Melchia di Papa lo spirito santo disceso con azione salvatrice sulle acque battesimali conferisce al fonte la pienezza dell'innocenza nella cresima dà l'aumento della grazia però non la sviluppa semplicemente ma le dà un vigore veramente ammirabile la scrittura espresse eloquentemente il fatto con l'immagine del rivestimento alludendo appunto l'aggressivo il nostro salvatore disse trattenetevi in città finché non siate rivestiti di potenza dall'altro volendo poi spiegare chiaramente l'efficacia divina di questo sacramento per commuovere gli animi dei fedeli i pastori non dovranno fare altro che raccontare quel che accade agli apostoli prima e nella loro stessa della passione erano così fiacchi e spaventati che non appena il signore fu catturato si abbandonarono a una precipitosa fuga dal canto suo Pietro che era stato designato come le pietre al fondamento della chiesa e aveva sostenuto con una singolare costanza e aveva ostentato una singolare costanza e forza d'animo atterrito alle parole di una donnicciola negò non una o due volte ma ben tre volte di essere ricevuti di Gesù Cristo anche dopo la risurrezione tutti si erano stettano tappati in casa per il povero degli ebrei invece dal giorno della pente coste furono tutti così efficacemente colmati della virtù dello Spirito Santo da spargere liberamente e audacemente il Vangelo loro affidato non solo sulla terra degli ebrei ma in tutto il mondo e da ritenere come il colmo della felicità essere fatti degni di subire disprezzi carcere tormenti e croce per il nome di Cristo quindi ecco gli straordinari effetti di questo sacramento veramente mirabili quali sono? diventi soldato testimone evangelizzatore pronto al martirio ovviamente attenzione ad una espressione che abbiamo prima sentito e che dobbiamo ricordare questo sacramento produce questa grazia specifica qualora questi non le ponga ostacoli adesso come vedremo la cresima è valida e il carattere si imprime purché sia amministrata secondo le regole ma quali frutti produce? quali frutti produce? questo non dimentichavano mai se non fai ostacoli molti frutti se fai ostacoli pochi frutti i parroci sanno bene che ironicamente la cresima è stata definita negli ultimi anni con un sarcasmo insomma non bello ma purtroppo non lontano dal vero il sacramento dell'addio che poi tra l'altro è un addio che bisogna vedere quando finisce perché una volta si poteva fare un addio ma era un addio per modo di dire nel senso che poi dovevi andarti a sposare nella stragrande maggioranza dei casi e quindi in chiesa ci dovevi tornare e quindi prima del matrimonio la pratica cresima la dovevi sistemare ma se anche poi l'avevi abbandonata in qualche modo devi rientrare in chiesa o adesso spesso e volentieri ci si rientra in orizzontale perché tanto i matrimoni non servono più ci stanno i compagni e le compagne che quando io ero giovane designavano i membri di una certa area politica ma qua compagni e compagni sono tutti compagni e compagni anche quelli che mi risulta che non appartengano a quella parte politica e quindi per qualcuno il prossimo ritorno in chiesa sarà non in posizione retta ma in posizione orizzontale quindi capite no? anche qui la cresima è un sacramento importantissimo un bambino o un ragazzotto un preadolescente è certo che la deve ricevere però che effetti produrrà dipende dalle disposizioni con cui la si riceve questo è sempre così mettiamoci sempre bene in testa che Dio non fa niente senza il nostro libero albisio il nome che ne pensassero appunto i riformatori contro cui molte delle parole del catechismo romano sono rivolte niente vediamo adesso un effetto fondamentale del sacramento della cresima che è il carattere inoltre la cresima ha la capacità di imprimere il carattere per questo non può essere ripetuta lo abbiamo già osservato a proposito del battesimo e lo spiegheremo con maggiore ampiezza partendo parlando del sacramento dell'ordine perché anche nell'ordine si imprime il carattere e si usa il crisma se i pastori spiegheranno spesso e con cura queste verità necessariamente i fedeli riconosciuta la dignità e l'utilità del sacramento cercheranno di riceverlo piamente e compia e con la più degna preparazione quindi riceverlo piamente e con la più degna preparazione qui c'è il cosiddetto catechismo che prepara alla cresima infine le cerimonie della cresima dobbiamo dire infine brevemente qualcosa a proposito dei riti e delle cerimonie che la chiesa adopera nell'amministrazione di questo sacramento i pastori capiranno senz'altro l'importanza del tema ricordando quel che abbiamo detto sopra i cresimanti sono unti con il sacro risma sulla fronte la fronte non la testa come nel battesimo proprio perché in questo sacramento lo spirito santo viene infuso nelle anime dei fedeli per accrescerne l'energia e la tenacia onde combattano virilmente le battaglie del signore e oppongano ai malvagi avversari fiera resistenza capito combattere virilmente le battaglie del signore e oppongano ai malvagi avversari fiera resistenza poi continua con tale unzione si ricorda che nessun timore nessuna vergogna sentimenti dove prima traccia sulla parire e sulla fronte devono mai trattenere i fedeli dalla libera e alta confessione del nome cristiano Gesù dice che si vergognerà di me delle mie parole anche io mi vergognerò del padre mio che è nei cieli noi non ci vergogniamo assolutamente se un po' lo scrivi io non mi vergogno del Vangelo noi non ci vergogniamo del nome cristiano noi non ci vergogniamo di farci conoscere come tali noi preti sicuramente non ci saranno molti preti che ascoltano queste cose ma non ci vergogniamo di farci riconoscere come tali assolutamente non si tolgono mai i distintivi della nostra dignità mai cioè non ci si vergogna di essere cristiani si va fieri di essere cristiani ho un signore amato questa grande grazia mi ha chiamato ad essere cristiano e quindi c'è un sacramento che ti aiuta ma tu questo lo devi far funzionare la libera e alta confessione del nome cristiano libera e alta noi non ci vergogniamo sono gli altri che si devono vergognare non noi né ci sentiamo in un senso come dire di minorità beh se adesso sta la scienza sono persone intelligenti quelle che viscono un sacco di cose invece noi stiamo con la pesta della fede quindi siamo sempre un pochino mezzi capite mezzi rannicchiati mezzi complessati no no sulla fronte inoltre la più nobile parte del corpo deve essere impressa con la caratteristica che distingue il cristiano da tutti gli altri uomini come le insegne distinguono il soldato c'è differenza tra un battezzato e un battezzato un cresimato è un pagano che dite certo che c'è è grande come tra un ordinato e un non ordinato sacerdote c'è differenza un abisso enorme il segno sulla fronte perché la fronte è la serie della vergogna che noi non ci vergogniamo di essere cristiani e discepoli di Gesù anzi ci gloriamo di questo ci santamente vantiamo ovviamente con umiltà perché poi la nostra vita deve cercare di uniformarsi a quello in cui crediamo e poi perché è la parte nobile che è bene valorizzare in questo modo non farla diventare luogo di sfogo di eventuali sentimenti di vergogna ma appunto luogo su cui lo Spirito Santo lascia il suo sigillo ricordo che la formula di oggi dice proprio così N nome riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti dà vendono la pace sia con te sulla fronte inoltre la più nobile parte del corpo deve essere impressa con la caratteristica e si distingue il cristiano da tutti gli altri uomini come le insegne distinguono il soldato vigile nella chiesa di Dio la consuetudine scrupolosamente rispettata di amministrare questo sacramento soprattutto nel giorno di Pentecoste perché proprio in questo giorno gli apostoli furono rafforzati e confortati dall'effusione dello Spirito Santo così ricordando il grande fatto i fedeli potranno riflettere meglio sui grandi misteri che a proposito di questa sacra unzione vanno considerati quindi il vescovo colpisce leggermente e questa è una cosa molto importante adesso non si fa più con la mano sulla guancia colui che è stato avuto e confermato per ricordare per ricordare che quale coraggioso atleta deve essere disposto a sopportare ogni avversità con un invito per il nome di Cristo adesso non posso non vado a fare il pagliace e fare la mimica ma è uno schiaffetto noi abbiamo fatto qui la gresina la settimana scorsa io ho fatto una prova a uno dico non ti offendere ma ti faccio vedere com'era più o meno lo schiaffetto di un tempo perché non era una una gresina era uno schiaffetto certo non faglie male però a dire forza amico eh avanti adesso si va sul serio adesso si comincia a combattere adesso tu sei un atleta e un guerriero di Cristo infine gli viene data la pace perché capisca di aver ottenuto quella pienezza della grazia celeste e quella pace che oltrepassa ogni immaginazione ecco la sintesi di quel che i pastori dovranno spiegare intorno alla cresima con tanto non tanto con semplici parole quanto con il fiammato zello e pietà affinché peneri nel più profondo pensiero dei fedeli con questo amici termina la sezione dedicata all'eucaristia scusate alla cresima ecco ho già visto il titolo del paragrafo seguente perché la settimana prossima Dio piacendo comincerà la trattazione del sacramento dell'eucaristia anche questo sarà meraviglioso e anche questo ci tratterrà non poco cioè qui non ce la faremo con due puntate qui sto vedendo l'eucaristia è stato veramente uno dei punti focali fondamentali della lotta contro protestanti guardate sto dando una scorsa ecco allora sono due quattro sei otto dieci dodici quattordici sedici diciotto venti ventidue ventiquattro venticinque pagine di cadevismo quindi ci mettiamo l'anima in pace ci faremo una bella full immersion nell'eucaristia nel frattempo oggi la categoria è leggermente più breve perché non è il caso di cominciare l'eucaristia quindi ci diamo appuntamento alla prossima settimana che Dio vi benedica tutti e la santa vergine sempre vi potenga laudentur Gesù et Maria